O, ora dixiesse Quistas in signum populorum Superquem continentum Trecces posum Quintel test de precautum Legia liberandum Nella terza antifona Delle ferie privilegiate di Avvento C'è un'immagine bellissima Tratta dal profeta Esaia Dai libri di Samuele E che segna molto Il cammino d'Avvento O germoglio digli esse Che ti innalzi Come segno per i popoli Tacciono davanti a te I re della terra E le nazioni ti invocano Vieni a liberarci Non tardare L'immagine Che è la madre di quest'antifona È il germoglio In latino è radix Radice Il libro del profeta Esaia Nell'undicesimo capitolo di Esaia Esaia parla proprio della radice di Iesse Il germoglio Che spunterà dalle radici di Iesse Chi era Iesse? Iesse era il padre di Davide La storia del libro di Samuele Che riguarda proprio Iesse E suo figlio Davide È molto bella Perché il profeta Samuele Spinto dal Signore Da un'ispirazione del Signore Va a cercare il re Il re secondo il cuore di Dio Che non era Saul Saul viene rigettato Saul il re che era Secondo il cuore degli uomini Era alto Potente Forte Ma tradisce La fedeltà a Dio Saul Perché? Perché voleva essere re Come gli uomini vogliono essere re Voleva essere al di sopra della legge Voleva lui fare le leggi Non rispettare le leggi di Dio E diventa piano 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 Sempre più Un re distante Dalle intenzioni di Dio Al punto tale Che il Signore lo rigetta Ovvero sia lo rifiuta E dice a Samuele Vammi a cercare Il re secondo il mio cuore E lo manda a Betlemme A Betlemme che era la patria di Iesse E lo va Lo manda nella sua casa A cercare Tra i figli di Iesse Il prossimo re E lui All'inizio Vede tutti i figli A cominciare dal primo genito Andando avanti Ma Il Signore gli dice sempre Non è lui Non è lui Non è lui Ma ne trova Anche di quelli più adatti Per essere re Perché erano bravi Erano forti Promettevano bene E gli dice Ma sono tutti qui I tuoi figli Dice no Ce n'è uno Ma è un ragazzo Sta a pascolare Le pecore Allora io aspetto Sino a che non torna Io non me ne vado Arriva Davide E sarà proprio lui Che il Signore gli dice È lui Ma come? Lo descrive Il libro di Samuele Era di bell'aspetto Rosso di capelli Un ragazzotto Che Gli piaceva cantare Gli piaceva Anche menare un po' le mani Perché Quando c'era Da menare le mani Era il primo Ma Un ragazzotto Giovanissimo Dice lui E lo unge Re di Israele La radice di Iesse E sarà Davide Il capostipide Di tutti i re di Israele E nella genealogia di Gesù Gesù è figlio di Davide E questa radice Questo germoglio Usa la parola germoglio Isaia Che non è Un tronco forte È un germoglio Rimarrà sempre Un piccolo germoglio Come quel ragazzo Che Samuele aveva Unto re di Israele E quando Israele sarà deportato Quando sarà distrutto Distrutto a Gerusalemme Distrutto il regno Del nord Rimarrà un piccolo resto Perché? Perché rimarrà Veramente Una Una Piccola parte Di quello che era Il popolo di Israele Quello sarà Ancora una volta Il germoglio Da cui uscirà Il Salvatore Ecco perché L'antifona Usa quella frase Di Isaia Un germoglio Spunterà dal tronco Di Giese Ed è quello Che ci ricorda Davanti Ai re della terra Tutti Chiuderanno la bocca Dice la profezia Perché quel re Che uscirà Come Davide Come Salomone Come i grandi re di Israele Sarà un re potente Ma il re che viene Sarà potente Come immaginavano Gli uomini Dice l'antifona Che Le nazioni Ti invocano Non sarà potente Come i re della terra Ma sarà potente Come Cristo è potente Anche lui sarà Un virgulto Dirà la profezia Della passione Di Gesù Di Isaia Non ha apparenza Né bellezza Da attrarre lo sguardo Sarà addirittura Un sofferente Ma quel piccolo germoglio Trionferà Allora l'invocazione Ancora una volta Viene a liberarci Ma si direbbe Viene a liberarci Dalle illusioni Del potere Non tardare C'è fretta In questa invocazione Il mondo aspetta Con ansia Un liberatore vero E il Signore È colui Che viene Veramente A liberare l'uomo A liberarlo Totalmente Non tardare Lo diciamo anche noi Lo diciamo insieme A tutti Coloro Che nel mondo Aspettano Veramente la salvezza Tutte le antifone Sono in bocca Alla Chiesa E in bocca Ai poveri Che lo invocano Rileggiamocela allora O germoglio di esse Che ti innalzi Come segno Per i popoli Tacciano davanti a te I re della terra E le nazioni Ti invocano Viene a liberarci Non tardare Magnificat Anima mea Dominum Ed exultavit spiritus meus In Deo salutari Meo Qui ha respectit Humilitate mancille sue Ece Ece Enim exocereat Ammedicent Omnes Generationes Qui affecit Mihi Magna Qui potences E sanctum Nomen Eius Misericordia Eius A progenie Im progenies Dimentibus Eum Fecit Potentiam Imbracios Su Dispersit Superbus Mente Cordis Sui Deposuit Potentes Descede Et Exaltavit Humiles Es Surrientes Implevit Panis Et Divites Dimis Et Imanes Su Cepit Israele Puerum Su Recordatus Misericordie Su Sicut Locutus Estat Patres Nostros Abraham Semilie Eius Se D Si Sicut